E' qui per mettere la prima pietra del Philadelphia. Quante prime pietre abbiamo già visto? Tante, troppe. Questa però è diversa da tutte le altre, perché a mettere questa prima pietra ci sono i tifosi. Dobbiamo dare atto alla città di Torino, alla regione Piemonte, al Torino Football Club, di aver messo i presupposti economici perché il Philadelphia tornasse a vivere. Ma al cuore ce l'abbiamo messo noi! Siamo noi che abbiamo spinto tutti questi anni otto associazioni di tifosi che abbiamo spinto per essere qua oggi. In questo campo c'è un uomo, Oreste Bognida, che con la sua tromba suonava e dava la carica agli invincibili. In questo campo c'era un uomo, Valentino Mazzola, che si rimboccava le maniche e trascinava la sua squadra a successi che tutti quanti credevano impensabili, impossibili e realizzabili. oggi questa sacra tromba di Oreste Bognida torna a suonare qui al Philadelphia. Oggi il popolo Granata si rimbocca le maniche e sta vicino a noi della fondazione fino alla fine, perché la ricostruiamo! Non ci ferma più nessuno! Oggi torniamo a casa! Cazzo!